Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Animal Crossing. Oggi, come potete vedere, stiamo per fare un tour della mia isola a tema giapponese. Ragazzi, non vi voglio spoilerare nulla, ma vi assicuro che ci sono delle isole a tema giapponese veramente fantastiche in giro. Viste quelle altre, la mia può sembrare un po' scarsina, però ragazzi, sono fiducioso perché ho ancora tantissimo lavoro da fare, quindi direi di rimboccarci le maniche e partire subito. Eccoci qui ragazzi, allora, come al solito è notte, guardate lì l'orologio, è quasi mezzanotte e io sono ancora qui a registrare per voi. Spero che apprezzerete lo sforzo e anzi, a questo proposito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciarmi un commento a questo video e anche un like. Mi raccomando, il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale. Allora, detto questo, possiamo iniziare come al solito, siamo vicino all'aeroporto e iniziamo il nostro tour. Vabbè, l'atterraggio lo conoscete già. Andiamo direttamente alle novità che ci sono sull'isola, ragazzi, perché semplicemente qui al centro ho messo queste luci per completare la piazza, che mi sembravano carine, la piazza altrimenti mi sembrava un po' scema e un po' vuota. E infatti anche in questo posto, qui in alto, che mi sembrava un po' scemo e un po' vuoto, ho messo questo cartello direzionale. Non sono molto convinto, eh ragazzi, perché in questo punto potrei rimettere qualche altra cosa. In realtà, spoilerone degli spoileroni, avevo in mente di creare tipo un piedistallo e di metterci l'eroe robot. Però, visto che il percorso per arrivare fino all'eroe robot è lunghissimo, per il momento ci ho schiattato sto cartello. E non è esattamente la stessa cosa, ma vabbè, ma vabbè. Allora, quali altre novità ci sono? Allora, ho sistemato un po' tutto il viale lungo fiume e ho fatto un po' un utilizzo delle siepi, ragazzi, perché altrimenti le avevo buttate un po' in giro a caso. Quindi, come vedete, ho sistemato le siepi agli ingressi e poi ho schierato anche ben bene dritti in una striscia di terra i fiori ed ho accorciato, ristretto un pochettino il vialetto. Poi, che cos'altro ho fatto? Ho demolito il ponte che si trovava tipo qui perché voglio andare a mettere il ponte tipo qui. E vi faccio vedere perchè se si va dritto 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 da qua Si arriva a un ponte che ho già messo Allora che ne pensate da quest'altra parte ho fatto il medesimo Vialetto che non è fiorato perchè i fiori non li ho tutti Spero che mi crescano o di trovarli in giro su qualche isola visitata con i coupon per poterli riempire, per poter riempire le aiuole. E qui ci ho schiattato il ponte, mi piace un botto questo ponte e lo metterò anche dall'altra parte. Dunque altre novità, casa di Marci che tra poco verrà spostata, però come potete vedere anche Marci si sta dando da fare. Sta facendo una casetta carina, il gioco le sta piacendo molto e ne sono molto contento. Passiamo ad un'altra piccola novità, visto che ci troviamo da questa parte. A proposito di casa mia, le rampe mancano ancora, ma sono riuscito a trovare o a fare un po' di spazio per un nuovo pattern. Ho messo queste pietruzze, le vedete, che creano un po' queste passeggiatine tutto intorno a casa mia. E quella sederona di Marci ha trovato il progetto per la lapide giapponese. Me ne sono fatta subito craftare una, anche se ha sprecato poverina un sacco di pietre. Le dovrò restituire o comunque darne un po' di soldini, che le fanno sempre comodo perché ha il mutuo da pagare. E quindi qui nell'angolo poi, una volta che me l'ha craftato, ho piazzato la lapide giapponese, che mi piace un sacco. Questo lato già lo conosciamo, ho messo qualche pietruzza anche da qua. E poi che altro ho fatto? Niente, vabbè, ci sono i cedri che stanno crescendo, le luci e bla bla bla. Ok, si chiamano cedro? Sì, si chiama cedro? Sì, cedro. Ok, poi mancano, beh, ancora tante altre cose, però non vi voglio spoilerare nulla a riguardo. Metterò ancora altre cose per abbellire casa mia. E poi quando le avrò messe ve le farò vedere in un prossimo video. Un palloncino! Oh, ti prego, sì qualcosa di utile. Ti prego, sì qualcosa di bello. Vediamo che cosa sì, che cosa sì, cosa sì, set per i compiti. Eh, non lo so, non mi convince. Ok, passiamo ad un'altra novità, ragazzi, che è una piccola, piccola novità, come quella di casa mia. Non è esattamente semplice fare cose del tutto nuove, perché devo creare prima lo spazio, quindi ci vorrà un sacco di tempo. Ah, qua ho messo una monnezza! Ho messo una monnezza qua, sì sì. Finalmente sono riuscito a trovare uno scarpore e mi sono craftato una monnezza. E spero di trovarne anche altri, così posso mettere altra monnezza in giro per la mia città. Non è fantastico? Sì, lo è. Ok, questi alberi mi sa che ve li ho fatti già vedere. La prossima modifica che ho fatto è una piccola cosa nel giardino zen. Vedete, ho scaricato il pattern di un disegno fatto nella sabbia e ho cambiato i connotati a tutto il giardino zen. Ho creato un po' un gioco di sentierini, di solchi sulla sabbia intorno alle rocce e poi da roccia a roccia e ho creato un vero e proprio giardino zen. Allora, l'altra volta mi sono dimenticato di dirvi una cosa, ve la dico adesso, ed è il motivo per cui ho messo la pagoda qui. Può sembrare una cavolata, ma guardate un po', l'ho messa perfettamente centrata con il campanile e l'intento era quello di guardare, di avere una visuale da qui che facesse sembrare che ci fosse, che ci sia una vera e propria pagoda in lontananza. Eh? Non male, no? Sembra che ci sia lì dietro una pagoda, chissà dove, sulla montagna. Diciamo che l'effetto visivo che volevo creare era più o meno questo. Spero di esserci riuscito. Ok, questa è l'altra prossima, altra piccola, volevo dire, novità che io ho fatto sulla mia isola. Non mi stancherò mai di questo giochino di bambù. E poi, e poi, e poi, che cos'altro? Ok, sì, ho creato una nuova zona, ragazzi. Come vedete qui ho fatto un'apertura con un sentiero che conduce con poi delle lastre, no, come si chiamano? Delle pedane un po' scassate porta sulla spiaggia. Poi sulla spiaggia creerò roba tipo lettini e servizi vari per la mia cittadinanza. Io sono un sindaco premuroso e do servizi alla popolazione della mia città. E poi, altra novità, vabbè, ancora non ve lo dico, perché da quest'altra parte ho messo un pavimento vuoto che andrò a riempire a breve, mentre poi dall'altra parte ho riempito già un po'. We are open, perché c'è un bar con delle sedie fantastiche. Qui ce ne metterò anche un'altra, mi sa, e qua in mezzo qualcos'altro. Qui ci ho messo una tazzina da caffè che quella sederona, un'altra volta, di Marci, ha trovato nel negozio. Qui ci schiatterò un libro, che stavolta è il sederone, sono io perché l'ho trovato sul catalogo speciale di Nook. E poi qui c'è un altro tavolino che aspetta i suoi sgabelli e qui dietro c'è il bar. Allora, per il bar, ragazzi, aspetto una macchinetta del caffè automatica. Nel frattempo ci ho schiattato una moca perché sono di Napule e quindi noi il caffè lo facciamo nella moca. e quindi, vabbè, il macinino per il caffè e via macina macina macina, moca 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 e via di caffè. Una piantina, il menu, il carrellino per portare le cose in giro e poi qui dietro ci ho schiattato come se fosse una cucina, però lo spazio non è poi sufficiente per passare, magari mi tiro tutto un po' più avanti così si passa, però non è proprio essenziale perché volevo creare solo l'effetto da dietro della cucina. Non so se vedete, ci ho messo i fornelli con la teliera sopra e il frigorifero che prima invece era nel campeggio. L'ho tolto dal campeggio e l'ho messo qua perché nel campeggio non serviva a niente e qua invece può servire a qualcosa. Ci sono ancora un po' di dettagli da curare ma credo di essere abbastanza soddisfatto di questo bar. Dall'altra parte creerò più o meno lo stesso ingresso, comunque un po' differente e farò credo un ristorante o qualcosa del genere, qualcosa con una piscina, ci devo pensare ma sicuramente sfrutterò quello spazio per creare un altro ambiente. Ok ragazzi, allora ho oggi un ospite al campeggio e posso includere questa cosa nel video perché come voi sapete sono alla ricerca di un abitante giapponese che abbia una casa a stile giapponese. Ah, qui c'è il mio regno ragazzi, guardate quante rape che ho piazzato qui nel mio orticello. Sono 2200 se non sbaglio e sono il massimo che ci entra visto che ci ho messo il carrello, ma vabbè. E spero di venderle bene presto e mi raccomando ho fatto anche una guida per aiutare voi a vendere bene le vostre rape come cerco e come riesco a fare io. Se ve la siete persa ve la lascio qui su nelle schede così potete andarla a vedere e diventare dei grandi magnati delle rape e fare un sacco di soldi vendendo le rape come faccio io. Questo cade a mare quindi non lo sparo. No andiamo a sparare magari dall'altra parte. Eccolo finalmente e pum! Ok, ha chiappato giusto proprio sul bordo del fiume. Vediamo che c'è. Un top hula! Wow! Sì, non potevo farne a meno. Ok, stavamo andando a vedere chi c'è nel campeggio. Lo vediamo velocemente. Poi se mi piace o non mi piace lo decido dopo. E a meno che non sia ovviamente palesemente un abitante giappo. E poi lo tartasserò per conto mio per farlo venire poi ad abitare sulla mia isola nel caso fosse necessario. Vediamo chi c'è. Ti prego Genji! No, un lupo. Uno strano lupo. Come ti chiami amico? Freya! È anche una femmina. Oh, ti ringrazio di essere qui solo per salutarmi. Non credo di conoscerti. Già. Io sono Freya. Ci tengo a dirti. Questo posto è a dir poco meraviglioso. Odio ammetterlo ma ti invidio molto, sai. Lasterissimo luogo del genere. Non dare per scontato che sia così ovunque. Anzi, uff, secondo me sta facendo. E va bene, Freya. Visto che comunque ho degli abitanti che mi stanno veramente antipatici, probabilmente ti inviterò lo stesso. Poi sei con la casa Jap o non sei con la casa Jap lo andremo a vedere dopo. Il nome non promette bene perché Freya appartiene alla mitologia norrena, ragazzi. È una piccola pillola di saggezza che vi lascio lì così. Lascio lì così. Ok, adesso un'ultima cosa prima di salutarci. È davvero un bel po' di tempo che ho lasciato indietro una cosetta. Ovvero delle cerimonie del museo e non mi ricordo neanche che cos'altro. Quindi adesso ci andiamo a fare una bella cerimonia insieme e poi ci salutiamo con dei fuochi d'artificio. Soon after. No, niente cerimonia. Allora adesso le cose sono due. O ho fatto passare troppo tempo e non posso più fare le cerimonie, oppure essendo notte fonda nessuno vuole venire ovviamente a fare baldoria con me e sparare i fuochetti d'artificio. Quindi ragazzi, per ora niente cerimonia. La faremo, se è come penso, la prossima volta. Quindi a questo punto non mi resta nient'altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio di Animal Crossing. E come al solito ricordarvi di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e lasciare un commento a questo video e spaccare quel pulsante like. Ciao! 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 Grazie a tutti.